Benvenuto a Mario Adinolfi, fondatore e presidente nazionale del Popolo della Famiglia. Buonasera. Buonasera. Molto noto, anche giornalista. Lei viene da esperienze nel Cattolicesimo Democratico, un percorso politico nel centro-sinistra, poi la svolta tradizionalista con il Family Day e ora con questa lista. Ci spiega il suo percorso? Sì, non la definirei tradizionalista, sono sempre stato un figlio e questo riguarda più o meno tutti in questo paese. Sono anche un papà e questo ti spiega un po' di cose nella vita. Ripeto, non credo che si possa definire tradizionale una mia scelta. Mi piacciono alcune cose della tradizione, ma il dato fondamentale è che la famiglia naturale in questo momento nel nostro paese è stata messa all'angolo, è stata un po' punita. E invece questo è ancora il paese della famiglia, è ancora il paese dell'articolo 29, la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ma c'era bisogno di una lista? Perché il vostro programma, diciamo, viene definito da alcuni un po' troppo monotematico. Di fatto voi vi concentrate soprattutto sulle misure della famiglia, che comunque sono anche in altri programmi. Cos'è che fa la differenza della vostra lista? La differenza fa che le altre liste hanno governato, diciamo, il paese centrodestra, centrosinistra, nella mia città anche il 5 Stelle, e non abbiamo visto politiche per la famiglia. Abbiamo visto nell'ultima finanziaria, alla fine della conferenza nazionale sulla famiglia, dire che non c'era un soldo e anzi andare in Consiglio dei Ministri a fare il dimezzamento del già ridicolo bonus bebè. Ora tutti si riempiono la bocca della parola famiglia e succede sempre in ogni campagna elettorale. Ma le politiche a favore di quei 29 milioni di mamma e di papà, che allevano 15 milioni di figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, che si fanno carico di 3,8 milioni di disabili, che se non ci fosse la famiglia sarebbero lasciati al loro destino, che si fanno carico degli anziani non autosufficienti, per loro non c'è mai nulla. In questa legislatura c'è stato qualcosa per le 2.000 unioni gay volute dalla Cirinna, c'è stato qualcosa per uccidere i malati con la legge cosiddetta su fine vita. Comunque queste sono tutte leggi che voi vorreste abolire, giusto? Assolutamente sì, il nostro programma propone l'abolizione di queste leggi. Invece veniamo alle misure che vorreste introdurre concretamente a favore della famiglia. Ce ne elenchi due o tre? La prima è il reddito di maternità. Se noi dovessimo avere gli eletti in Parlamento superando il 3%, al primo Consiglio dei Ministri, perché saremmo determinanti per la costruzione di una maggioranza, chiederemmo il decreto legge per cancellare la vergogna della denatalità italiana. E si fa solo col reddito di maternità. 1.000 euro al mese alle donne che avendo un figlio decidono di dedicarsi in via esclusiva alla famiglia. Questo è infinitamente meno costoso del fare il reddito di cittadinanza o Berlusconi che li copia facendo il reddito di dignità. Purtroppo costerebbe poco, questo lo devo dire, purtroppo costerebbe poco perché i figli che nascono in Italia sono pochissimi. E dunque avremo un costo, stanzieremo 3 miliardi di euro, cioè una cifra davvero irrisoria, non riusciremo neanche a spenderli, pensate un po'. Li accantoneremo per gli anni successivi, sperando che questa politica faccia nascere altri figli negli anni successivi. Quindi voi sulle vostre misure fareste accordi con chiunque, destra, centro, sinistra? No, potremmo fare un accordo di governo, prevalentemente con il centro-destra, è quella cosa immaginabile, per condizionarlo definitivamente, ma per ottenere queste misure e senza l'ottenimento di queste misure e la cancellazione delle leggi contro la vita e contro la famiglia noi non faremo accordi con nessuno. Infatti ci candidiamo in posizione autonoma senza esserci intruppati nelle coalizioni che pure avrebbero voluto che questo simbolo non fosse sulla scheda e quindi ci hanno offerto di tutto, ma noi abbiamo preferito la strada dell'autonomia. Chi c'è nelle vostre liste? Ci fa l'identikit di un vostro candidato? Ci sono nomi straordinari, Gianfranco Amato è il presidente dei giuristi per la vita. Non chiedo nomi, ma diciamo l'identikit. Sono prevalentemente un popolo cristianamente ispirato, che vengono da varie confessioni nel mondo cristiano, ovviamente moltissimi cattolici. C'è Paola Bonzi che per 37 anni ha fatto nascere bambini alla clinica Mangiacalli di Milano, cioè far aiutare le donne che avevano il dubbio se abortino o no, portarle verso la vita, portarle verso la nascita di quel bambino. Ne ha fatti nascere 21.037 anni. Questa è la caratteristica del nostro mondo. Puntare sulla vita, sulla famiglia, sulla bellezza della donna madre e investire su questo pensando che così può rinascere l'Italia. Senta, lei ha detto puntare, quindi mi ha fatto venire in mente che lei è anche un giocatore di poker internazionale. Oggi quanto punterebbe sulla sua lista? Beh, mi sembra che gli italiani stiano puntando in maniera significativa perché hanno capito che come tutti i giocatori di poker noi giochiamo sulla probabilità, mai sull'azzardo. C'è una buona probabilità che l'Italia si stia svegliando. E ora gli italiani stanno puntando su questa opzione. Abbiamo notato grandi leader che improvvisamente hanno cominciato a dire che abbrocherebbero la legge sulle unioni civili. Evidentemente hanno visto nei sondaggi che sta montando una posizione che è quella del popolo e della famiglia e qualcuno vuole rincorrerci e copiarci. Questo va benissimo, ne siamo orgogliosi. Grazie a Mario Adinolfi, la saluto. Voi invece restate ancora con Rai Parlamento perché tra poco avremo un altro ospite. Grazie a Mario Adinolfi, la saluto. Grazie a Mario Adinolfi. Grazie a Mario Adinolfi.